Sì, hai trovato un lavoro onesto? Attacco manifesti da moto! Oh, non è un gran cambio, no? È meglio che niente! Buongiorno! Ma che cosa sta facendo? È come una testa da moto, non vede? E chi è morto? Ma legga! Salve! Salve! Eh, mi manda? Legga! Salve, chi è morto? No, non lo so, legga! Chi è morto? Ma no, non lo so! No, non lo so! Grazie. Ma è lei? Ehi! Mi scusi? Ma che cosa fa? Sono attaccato a manifesto morto. Ah, e che è morto? Ma no, lo so che è morto. Rega! Mi scusi? Che è morto? Legga! Ma che cosa? Non lo so! Legga! Fate i suoi! Attacco, manifesti da morto! Non lo so! 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 Applauso! Applauso! Non lo so! Non lo so! Ma è morto! Fate i suoi! Ma è morto! Non lo so! Non lo so! Ma non lo so! Maggio! 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 Tozzo introducedvo!